Grazie per la parola e grazie a tutti voi di essere qui. So che la digestione sta per cominciare, per cui cercherò di rendere la cosa il più interessante possibile, e insomma affinché a fine di questo intervento, nonostante le riflessioni importanti sulla sicurezza, possiamo tutti stare comunque più tranquilli di conoscere qualcosa di nuovo, estremamente utile e importante, per quelle che sono le nostre installazioni di Magento, per noi, per i nostri clienti, o comunque sia per quello che è il nostro lavoro. Cominciamo con una comunicazione di servizio, da questo indirizzo, penso questa sera, Massimo, domani mattina, potete scaricare queste diapositive. Diapositive ovviamente che saranno un link su Slideshare assolutamente liberamente scaricabili. Di cosa andiamo a parlare adesso? Principalmente di questo concetto, che ci sono alcune persone che li piace pigiare i tasti per essere e per diventare hacker. Questo ovviamente può creare dei problemi ai nostri sistemi, può creare problemi ai nostri applicazioni, e quindi anche problemi a quelli che sono i nostri Magento. All'atto pratico, dopo una brevissima introduzione, vediamo come si sono evolute le minacce. Perché ovviamente il web esiste da un certo punto temporale, ma anche prima non si era fermi. Ci concentreremo sull'OWASP Top 10 2013, che OWASP è un'organizzazione, una serie di progetti per la divulgazione di quelle che sono le tematiche della sicurezza, in particolare per il web, e ogni tre anni viene fatta una lista. Viene fatta una lista dei principali rischi, delle principali vulnerabilità, delle principali problematiche che accadono sui nostri, sulle nostre applicazioni. Questo talk nasce da un po' di esperienze, di alcuni test che ho fatto io con il mio team, per alcuni clienti che utilizzavano Magento. Magento fortunatamente non ha tutta la Top 10 che andremo a vedere, ma comunque ci sono dei punti interessanti e peculiari, sia di ricordarci, sia che noi sviluppiamo su Magento, sia che noi lo installiamo e lo configuriamo. Dopodiché chiuderemo con delle piccole conclusioni. Da un punto di vista storico, vediamo un po' come si sono evolute le minacce, qual è la timeline della computer security. Cominciamo agli albori nel 1970. Qualcuno ha mai sentito parlare di Capitan Crunch? Ok, vedo che qualcuno lo conosce benissimo. Siamo negli anni 70. In particolare l'interesse è su quelle che sono le reti telefoniche. Freeking sta appunto per phone hacking. E quindi il nostro bersaglio tipico sono le compagnie telefoniche. Passando negli anni 80, si cominciano a diffondere PC più piccoli, più pratici anche da utilizzare. E quindi, lato sicurezza, cosa abbiamo? Si diffonde univirus principalmente tramite floppy. Molto interessante sapere che il primo virus infetta gli Apple. Quando dicono, no, io prendo il Mac perché è più sicuro, non ho bisogno di antivirus, cosa che in ultimamente non è assolutamente vera, in realtà il primo virus nasce da un Mac. Piccolo pettegolezzo. Cominciano poi ovviamente a diffondersi anche le reti, ovviamente sono reti all'interno di organizzazioni, internet, insomma, ci vorrà un po' per farla diffondere. E quindi nascono i worm, cioè dei virus che sono capaci di replicarsi da soli attraverso servizi di rete o comunque sia attraverso più in generale le reti. Da un punto di vista di notizie, di quello che avviene fuori, invece, si sviluppano gli attacchi alle pubbliche amministrazioni. Principalmente parliamo ovviamente di PA americane o comunque anche europee, in quanto è anche in Europa che ci sono dei gruppi estremamente attivi, tutt'oggi lato, diciamo, underground e computer security. Fino a poi arrivare negli anni 90, dove il principale bersaglio e il mezzo di diffusione sono le email, virus molto molto noti sono, per esempio, Melissa, I Love You, insomma, ce ne sanno moltissimi, e il bersaglio principale cominciano a diventare quindi i clienti di posta. Il bersaglio di chi attacca, quindi, cominciano a diventare le persone. Tutt'ora le persone sono uno dei bersagli più interessanti. Andando avanti, passiamo negli anni 2000, quando comincia, anche in Italia, che ovviamente arriviamo sempre un po' dopo, cominciano a diffondersi tutti quelli che sono i vari servizi di rete, e in particolare le applicazioni web, nasce una nuova tecnologia, un nuovo modo, nascono nuovi attacchi anche per queste piattaforme. Inoltre, come tendenza, attività di hacking cominciano a diventare veramente un business. Se oggi è diventato molto facile dire, cari, mi serve che mi distruggete il server della concorrenza, si paga una certa cifra che può andare dai 50 ai 300 ai 2000 dollari, dipende ovviamente nel mercato della consulenza, anche in questo caso c'è sempre molta competitività, e così continua la nostra storia. Passano altri 10 anni e le minacce si evolvono. Cominciamo a sentire parlare di minacce avanzate e persistenti. Magari passano dall'applicazione web per poi attaccare i pc delle persone o viceversa, e così via. Addirittura, anche da un punto di vista strategico-militare, gli argomenti di security diventano così importanti che anche il software e gli attacchi vengono considerate come armi. A tutt'oggi succede che molti stati, in particolare quelli di Oltroceano, sono abbastanza interessati a formare delle cyber-truppe per attaccare non solo per interessi squisitamente militari o politici, ma anche di business. Uno degli attacchi più grandi che è stato fatto, sponsorizzato probabilmente dal governo cinese, aveva come bersaglio, a tutt'oro come bersaglio perché è un attacco ancora in corso, i principali player americani e europei. Per cui, questo cosa vuol dire? Che anche noi, magari che abbiamo un nostro stormagento per un cliente molto importante, che magari ha anche molta visibilità, anche noi possiamo assolutamente essere bersaglio di uno di questi attacchi. Tornando quindi al nostro amato web, siamo nel 91, quando Tim Berners-Lee inventa appunto il web. Qualche anno dopo, passa un po' di tempo, siamo nel 2001, nasce invece OWASP, questa organizzazione che ha lo scopo di diffondere le problematiche, di far capire alle persone che la sicurezza è un aspetto importante anche e in particolare per le applicazioni web. Notiamo comunque che sono passati una certa quantità di anni da quando è stato fatto e questo fa molto riflettere. OWASP si rende conto, due anni dopo dalla sua nascita, che è utile stilare una top 10 delle principali problematiche, vulnerabilità, adesso li chiamiamo rischi, di quelli che possono essere i problemi che hanno le nostre applicazioni web. Nel 2013, che è l'ultima edizione in quanto esce più o meno ogni tre anni, abbiamo dieci anni di top 10. Nella top 10 troviamo appunto dieci punti che sono i dieci principali e più frequenti. Non vuol dire che sono solamente i meno gravi, ma quelli che è più probabile trovare durante un'applicazione, durante un test anche di un'applicazione. Questo che cosa vuol dire? Che per quel che ho avuto l'opportunità di testare dei Magento, non le ho trovate tutte, ma comunque una buona parte sono presenti. L'aspetto importante è che, nonostante il core di Magento sia strutturato all'ultima data abbastanza bene, e fornisce anche agli sviluppatori protezioni contro buona parte degli attacchi, gli sviluppatori non li implementano. Per cui è statisticamente probabile trovare delle problematiche, anche serie, all'interno dei plugin, extension, temi, qualsiasi cosa che non sia il core, è più probabile che abbia vulnerabilità. Cominciamo quindi con la nostra top 10. Al decimo posto troviamo la vulnerabilità di redirect e inoltre di pagina non validati. Cominciamo quindi a capire che il problema serio delle applicazioni web lo abbiamo quando noi abbiamo degli input da parte degli utenti, questi input non vengono verificati, l'utente mette quello che gli pare dentro la nostra applicazione e quello che succede è probabilmente un mistero. In questo caso, che cosa succede? Che se noi abbiamo un'informazione come per esempio questa parte di codice PHP che ho scritto appositamente per questo test, ma l'ho trovata in alcuni casi, non in stazioni di Magento, ma è abbastanza frequente, cosa succede? Che c'è un parametro in get URL che se noi ci mettiamo un indirizzo qualsiasi, che può essere google.it o un sito che voglio sponsorizzare lato search engine optimization, lo metto e dall'urla del sito posso reindirizzare gli utenti dove mi pare. Questa cosa ha due impatti molto importanti. Uno, lato motore di ricerca, dopo l'ultimo update ne stiamo parlando con qualcuno, è diventato molto molto delicato il fatto di quantità di link che si hanno in entrata e questa possibilità può essere usata, di solito utilizzata anche per questo scopo. E dall'altra parte, possiamo avere seri problemi con il phishing. Per esempio, per quello che è un e-commerce, o rubare le password dagli utenti, oppure fare della pubblicità ingannevole sfruttando comunque il dominio della nostra installazione di Magento, o comunque di quella della nostra concorrenza, magari rigirare l'offerto sul nostro sito web. Tutto questo è possibile perché non vengono verificati. Questo redirect, i consigli quali sono? Evitare di usare questo tipo di redirect. Se dobbiamo fare delle ridirezioni, utilizziamo dei parametri particolari, esempio una tabella dentro il database, dove abbiamo un id di riferimento del redirect, e quindi l'urla, questo non permettiamo a chiunque di rigirarci esattamente dove vuole l'utente, non dove vogliamo noi. Al nonno posto abbiamo vulnerabilità estremamente importante, sedente divertente. Di solito, quando un sistema viene messo in produzione, e quando parlo di sistema, parlo non solo di apaci, di sistemi di proxy, di cache, ma anche dell'applicazione delle componenti, viene pubblicato, detto ok, al tempo zero è sicuro, e poi viene abbandonato lì. Anche perché fare una modifica all'application server, o anche alla versione di PHP, non è detto che poi la nostra applicazione, il nostro plugin, la nostra installazione di Magento, effettivamente continua a funzionare bene. Questo viene abbandonato, e se escono delle vulnerabilità sui sistemi, abbiamo anche noi questa vulnerabilità. Su Magento non ci sono tantissime advisory, tantissimi alert, la diventa la security, ma in particolare l'ultimo che ci sta, che vediamo verso la fine, permette per esempio di leggere un qualsiasi file che è presente sul server dove è installato Magento. E parliamo, facciamo conto di file degli ordini, di export, di report, parliamo di password del sistema, e così via. Per cui, in questo caso, il nostro consiglio è, attenzione alle versioni di Magento, dei plugin soprattutto, teniamoci sempre aggiornati. Da quell'indirizzo lì, ci sono, diciamo, consiglio vivamente di scrivervi al blog di Magento, per essere sempre aggiornati, quando escono degli aggiornamenti all'autosecurity, e di farli al più presto possibile. verificando ovviamente che non vi creano danni durante l'aggiornamento. Oppure, se volete essere più scripolosi, procedere con un diffo del sorgente, e pecciare voi a mano, le righe che sono state sistemate, lato vulnerabilità. Una nota, come si nota anche dagli advisory, non sempre è il core di Magento che ha problemi. Magari sono delle parti di Zen Platform. Ok, va benissimo, non è colpa di Magento, però, dato che Magento utilizza, questa piattaforma, comunque siamo vulnerabili, e quindi è bene aggiornare. Come dicevamo, è bene anche non dimenticarsi di aggiornare server e la versione di PHP. Questa è una richiesta fatta a un server, appunto, che ospitava, se ricordo bene, un Magento. la data è del 21 agosto 2013, e, a parte il rilascio di informazioni che è sempre meglio evitare, in questo caso, l'header, server e x-powered by, mentre PHP è abbastanza aggiornato, Apache è la versione del 2005, e questa è la tipica faccia che si può fare nel 2013, un sistema non aggiornato da tanti, 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 tanti anni. All'ottavo posto, troviamo invece, la cross-site request forgery. Cross-site request forgery è una vulnerabilità, solitamente, di gestione della sessione. Come funziona? Se vi è capitato qualche volta, in particolare qualche annetto fa, che alcuni vostri amici mettevano su Facebook dei like a contenuti improbabili, e poi dicevano, no, ma in realtà non l'ho fatto, non sono stato io. Vi è mai capitato? Ok. Inizialmente si sfruttava questo tipo di vulnerabilità. Come funziona? L'utente è malcapitato, visita un collegamento debitamente creato da un attaccante, questo collegamento contiene dei form nascosti che inviano informazioni alla nostra applicazione, il browser dell'utente quando visita questa pagina fa quella richiesta, in automatico invia il cookie di sessione perché il browser si comporta così, e quindi eseguono le richieste. sostanzialmente quello che succede è che un utente che naviga liberamente su internet fa cose, operazioni, sulla nostra applicazione senza che lui se ne renda conto. In particolare questa è una monopilità che è stata trovata su Magento, Magento è risposto, dando una risposta e fornendo dei token anti-request forgery che si possono tranquillamente implementare, problema, su alcuni plugin che ho testato si sono dimenticati di questa funzione di protezione, per cui anche i plugin erano vulnerabili. In particolare questo problema per esempio si ha sulla parte di amministrazione. La parte di amministrazione a quanto ho letto sul blog anche di Magento per scelta è tenuta abbastanza insicura. Per esempio se io voglio segnalare una monopilità in cambio di soldi su Magento cosa che posso fare? Se segnalo qualche problematica sull'amministrazione non me la pagano. Scelta discutibile avranno sicuramente i loro buonissimi motivi però vuol dire che se io ho accesso all'administrazione di Magento posso fare più danni oppure se riesco ad attaccare un utente che ha l'accesso all'administrazione di Magento posso fargli fare delle cose posso attaccarlo per ottenere per esempio l'accesso alla schermata di amministrazione. Questo può essere particolarmente grave anche perché io posso fare una richiesta per esempio tipicamente per cambiare la mail dell'amministratore così facendo il recupero password ricevo io la password e la procedura di cambio password. Questo è diciamo uno schema di quello che succede con la request forgery sostanzialmente l'utente malcapitato che è quello con i punti interrogativi nel fumetto visita una pagina cattiva dove c'è il tipo brutto con i capelli viola che pensa ai teschi questa pagina viene caricata nel browser dell'utente esegue una richiesta il browser prende questo cookie lo manda esegue la richiesta e quindi conferma l'esecuzione anche dai log di un server non è detto che riusciamo a renderci conto di questa cosa questa è un'abilità che trovata su un magento un simpaticissimo plugin non so se qualcuno lo riconosce se no ve lo dico a telecamere spente sostanzialmente cosa era possibile era possibile caricare un registro di un qualche cosa comunque una pagina dove l'utente pubblica delle cose questo qui è una parte appunto di un upload di un form comunque abbastanza interessante e facciamo conto lì dentro posso mettere un cross i scripting per rubare la sessione questo tipo di attacco io lo posso fare tramite una request forgery per cui l'utente si trova pubblicato sul suo profilo di magento cosa che in realtà non ha pubblicato lui ma che ho deciso di pubblicare io e questo perché chi ha scritto il plugin si è dimenticato di aggiungere i token di protezione anzi request forgery che invece magento ci fornisce senza troppi problemi al settimo posto troviamo i problemi di access control quindi anche tutta la parte di autorizzazione adesso su magento questo non mi è capitato poterli usare in quanto la parte diciamo di utilizzazione è gestita abbastanza bene in generale dobbiamo stare attenti magari quando facciamo un nostro plugin a evitare cose del genere nel senso se noi chiamiamo una pagina riservata esempio una funzionalità di download su un sito tipo pastebin quei siti web dove si possono caricare file txt appunti eccetera questa è reale questa vulnerabilità anche se non è su un magento io magari ho il mio il mio file di testo protetto da una password però se io abilito la funzione di download da mano lo scarico a prescindere per cui quando sviluppate un plugin o altre cose attenzione sempre a verificare tramite query sequel o tramite sessione insomma ognuno ha il suo modo preferito quello che sono gli accessi a risorse questo è un aspetto estremamente importante al sesto posto troviamo quello che Ops chiama la sensitive data exposure cioè quando noi esponiamo dei dati che altrimenti non è bene esporre è una vulnerabilità che hanno rispetto ad altre versioni ci hanno condensato sverati aspetti e sono sia gli aspetti di quando noi comunichiamo facciamo conto una password e quindi tutta la parte del discorso di https ssl quello che vogliamo sia il concetto facciamo conto di salvare le password in maniera cifrata sul database e in questo magento comunque usa md5 che non è il massimo però comunque permette di usare un salt per cui usate sempre il salt su magento adesso vediamo anche una parte del sorgente l'altro aspetto importante è bisogna stare attento a quando mandiamo le pagine in cache la cache è un servizio utilissimo ci serve per risparmiare banda essere più veloci per stare più simpatici a google stiamo attenti di non lasciare in giro però in queste cache informazioni degli utenti esempio le informazioni relative alla spedizione relative ai pagamenti sono tutte cose che vanno sempre impostate come cache il più possibile evitare di fare questo di utilizzare questa funzionalità se volete fare un test relativamente il vostro la vostra configurazione di HTTPS c'è questo strumento gratuito che si chiama SSLize che ci permette di verificare la configurazione SSL in questo caso ci sta avvisando che è possibile utilizzare dato che è abilitato la compressione un attacco crime che permette comunque di decifrare il nostro traffico anche se stiamo usando HTTPS e in questo senso un utente non è molto molto contento di questo Magento come stavo dicendo prima utilizza comunque MD5 MD5 è un protocollo un algoritmo sconsigliatissimo in quanto delle password in MD5 si possono decifrare in una manciata di secondi oppure cercando l'hash su google tante volte si trova l'hash già decifrato sto facendo una prova e ho trovato anche che SSL Lazio cioè qualche tifoso della Lazio a Roma ha usato questa come password e anche una password squisitamente italiana squisitamente locale squisitamente della regione Lazio in realtà è presente anche su google per cui anche usare password un po' delicate tante volte non è efficace per cui configurate sempre il salt il salt è un elemento che come si può notare dal codice viene utilizzato per fare l'hash della password più il salt e questo complica naturalmente il lavoro di quando andiamo a decifrare facciamo conto con dei sistemi appositi GPU e altro trovare quindi le password al quinto posto troviamo un'altra vulnerabilità sempre abbastanza complessa che è quella della security misconfiguration tipicamente è una responsabilità tra virgolette del lato sistemistico comunque di chi fa il deployment di questo sistema ma in generale anche le applicazioni devono essere configurate per cui la security misconfiguration ce la possiamo avere ovunque alcuni esempi su magento capita di solito che io riesco ad accedere dopo un'installazione a buona parte di questi file che sono di default nello zip di magento e che è bene ed è il caso di togliere perché perché anzitutto mi dicono che quello è un magento se io sto cercando di nascondere la versione del software che sto utilizzando se io posso accedere a tutti questi file posso facilmente capire che ho un magento e spesso comprendere anche qual è la versione esatta che stiamo utilizzando perché magari ha delle vulnerabilità note perché non è aggiornatissima e questo è possibile anche solo analizzando i file per cui dobbiamo fare molta attenzione l'altro aspetto interessante è attenzione a dove tenete il backup del vostro database cercando su google un create table if not exist della prima tabella che viene fuori facendo un dump con php myadmin e stringendo la ricerca su file type sql adesso a parte il primo risultato che comunque diciamo legittimo che sia lì altre persone li fa piacere condividere il loro database con il resto del mondo parlavo con qualcuno provare sempre anche slash dump punto sql solitamente da risultati abbastanza divertenti per cui anche qui attenzione come dicevamo l'altro problema è che non è solo una cosa sistemistica perché questa cosa lo può fare anche uno sviluppatore ho fatto il backup lo ho lasciato lì così non me lo perdo bellissimo l'altro concetto interessante e mi faccio aiutare da questo simpatico coniglietto è password deboli sul lato amministratore la scenetta del coniglio che passa anziché saltando l'ostacolo ma mangiandosi l'ostacolo equivale a usare admin 123123 questo perché ho visto tramite google che è una delle tipiche password di default di magento e questo si trova perché magari stiamo andando di fretta stiamo facendo l'installazione velocemente poi dopo la cambiamo ultima frase famosa parole famose che poi non si cambia mai ma permettiamo veramente anche avendo un ostacolo a passare senza troppi problemi utilizzando password deboli altro elemento che troviamo al quarto posto è l'unsecure direct object reference parola difficilissima che cosa vuol dire è un problema di autorizzazione quando noi andiamo a utilizzare delle chiavi del database per chiamare facciamo conto una fattura per richiamare una risorsa generica che può anche essere una lista di un utente particolare se noi non controlliamo solitamente in questo caso si fa con una query o comunque ragionando su un sistema di autorizzazione eventualmente personalizzato se noi semplicemente conoscendo l'url possiamo accedere a quella risorsa allora abbiamo un problema mi era capitato su un e-commerce non era un magento però l'esempio calza bene ho fatto un ordine avevo visto che c'era invoice.php punto interrogativo id uguale 12345 è venuto il dubbio ho fatto massimo proprio un 2344 che succede? vedo la fattura dell'altra persona con quello che si era comprato i suoi dati fortuna non c'è la sua carta di credito altrimenti probabilmente facevamo Meet Magento le caraibi con i biglietti gratuiti esempio invece su un magento questo è uno dei miei plugin preferiti dove ho trovato penso più cose in un magento anche qui gli utenti hanno determinati indirizzi che possono decidere di condividere o meno c'era un'opzione in cui era abilitare la privacy per questi indirizzi oppure no peccato che andando a naso a intuito e in maniera progressiva putacaso si accedeva a queste liste delle persone che magari non gli faceva piacere fossero pubbliche al terzo posto c'è invece la celeberrima vulnerabilità di cross scripting o xss qualcuno già la conosce ok benissimo Magento è molto famoso per questo motivo ha un filtro anti cross scripting abbastanza potente nell'amministrazione non ce l'ha comunque diciamo anche se è stato segnalato svere delle volte non sempre viene sistemato cross scripting che cos'è io posso mettere in una pagina del codice javascript che poi viene eseguito sul client all'interno del browser di un utente magari li posso far fare operazioni utilizzando in combinazione con altre vulnerabilità posso fare cose veramente divertenti oltre anche in alcuni casi fare dei defacement sui facciamo conto tipicamente questi utili sui siti della concorrenza faccio un defacement così la gente viene a comprare da me pratica che ho visto fare sverate volte ma comunque anche qui dobbiamo stare sempre attenti e stiamo sempre parlando di dati non validati cioè il motto di penso una buona metà delle problematiche di questo caso è mai fidarsi di quello che ci passa all'utente secondo dove va a finire questa informazione possiamo avere dei problemi più disparati questo è diciamo un tipico esempio di problematica di cross scripting su Magento parliamo della parte di amministrazione la gestione dei ruoli dove noi possiamo inserire il nome del ruolo un cross scripting e quindi in generale passa un altro amministratore un'altra persona tranquillamente li possiamo rubare la sessione e quindi impersonarlo questo è utile anche se dobbiamo fare qualcosa che non vogliamo che ci sia il nostro utente ma che ci sia l'utente di qualcun altro altrimenti un attacco tipico come possiamo vedere da questo bellissimo schema è inviare all'utente vittima a parte quello cattivo quello che sorride un urla che contiene un cross scripting nascosto codificato che è difficile da vedere a quel punto il browser di questa persona della vittima esegue codice e magari li possiamo facciamo conto fare un redirect verso un sito malicious o semplicemente fargli fare operazioni che non vogliamo al posto nostro altrimenti può arrivare il nostro simpatico tipo che ci ruba i biscotti ovviamente questo è livello amatoriale ma con attacchi ai cookie sono stati compromessi anche siti web anche come apaci.org per cui sempre 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 attenzione per fare un altro esempio direttamente su un magento di un'altra problematica questa volta del sistema di autenticazione una volta ho trovato questo sistema che permetteva di mandare un link ovviamente è sempre bene verificare la mail dell'utente quando si registra ovviamente questo è un sistema che permette di rimandare la mail quando facciamo conto non mi è arrivato o è stata bloccata cosa succedeva che se io mettevo il mio indirizzo con cui mi ero registrato appunto simone.notri.real mi dicevano ok bene ti abbiamo mandato la mail ti arriverà poi pigio sul link se io invece mettevo simone.notri chiocciola qualsiasi altra cosa mi diceva ah non abbiamo trovato la mail nel nostro database ok questo qui che è una novità che può sembrare abbastanza semplice in realtà si chiama user numeration e ci permette comunque di numerare gli utenti su un sistema una volta che ho preso gli utenti posso tranquillamente tentare di attaccare il loro password provando sverdi login oppure se mi serve fare dei test sulla mia mailing list se sono anche iscritti a quelli della concorrenza posso usare questo sistema per ottenere informazioni lato marketing e intelligence particolarmente utili chiudiamo molto molto velocemente con l'ultima e la più frequente vulnerabilità la injection chi la conosce oh benissimo ok l'injection quindi non sto qui a spiegare che quando abbiamo un parametro che non è controllato e viene passato in qualche modo attraverso una query al database se non lo controlliamo al database si può far fare più o meno qualsiasi cosa esistono però anche altri tipi di injection una che possiamo diciamo più o meno classificare come injection anche se un po' un po' una forzatura è una vulnerabilità di tipo XEE cioè XML Entity Expansion questa è una vulnerabilità su Magento fixata nell'ultima versione per cui se non avete aggiornato l'ultima versione per favore fatelo permette attraverso l'XML RPC di poter injectare per usare questo bruttissimo termine delanizzato una Entity particolare e chiedendo un Entity tipo System chiedendo il file per esempio l'ETC passwd che su un sistema Linux ci dà delle informazioni molto interessanti il sistema come risposta ce le mostra questa è stata diciamo l'ultima grande vulnerabilità trovata sul core di Magento ovviamente nessuno toglie di tentare di fare sicuri injection da qualsiasi parte questa è un'immagine estremamente famosa dove si prova a fare anche appunto una sicuri injection in un sistema di gestione di autovelox ora per quanto io ho visto sistemi di lettore di targa diciamo Drop Database Police è un mero tentativo di evitare la multa purtroppo per questa persona i sistemi di gestione targa che ho visto io funzionano con un OCR abbastanza potente che purtroppo per lui non ha l'apice per cui non provate a fare questo è improbabile cioè provatelo ma è improbabile che funzioni tornando al nostro magento questo è un esempio che si trova tranquillamente anche andando su internet query normale assolutamente vulnerabile dove praticamente vediamo che noi semplicemente facciamo una insert mettendo le variabili secche prendendone magari da una get o da una post perché noi ci fidiamo ai nostri utenti invece ci sono delle funzioni di prevenzione che è quello di usare i bind cioè delle prepared statement con le prepared statement è il modo migliore con cui possiamo evitare la SQL injection ci sono metodi che possiamo usare che facciamo conto può essere di fare dell'escape può essere però l'escape bisogna stare attenti perché se facciamo l'escape e nella nostra query stiamo utilizzando un dato integer che noi facciamo l'escape quando nella query non ci sono apicetti è come se non lo usassimo per cui la cosa migliore da fare è la parte di prepared statement comunque sia Magento lo supporta eventualmente potete tranquillamente fare un grep e cercare sul vostro sorgente e verificare se effettivamente sono tutte messe così di solito allora possono capitare di solito due cose o si dimenticano un parametro e da lì si prende il dump del database oppure non ci hanno proprio pensato perché ogni parametro è vulnerabile questo diciamo è quello che succede di solito finita la nostra lista e vi ringrazio per non esservi addormentati c'è una grande forma di morale vi invito a leggere questa bellissima tabella che sintetizza quelle che sono le vulnerabilità dal 2003 barra 2004 al 2013 notate qualcosa di interessante a prescindere dal disc... qualcuno vuole provare a dare la risposta a parte chi già la sa ok la morale secondo me in questo senso è che da dieci anni stiamo sempre parlando delle stesse cose cioè a parte diciamo dal 2004 che comunque sia invalidate di input è molto 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 generica se guardiamo le prime tre le prime quattro dal 2007 al 2013 sono sempre le stesse vulnerabilità cambiano un po' l'ordine cambiano un po' i nomi ma stiamo sempre parlando delle stesse cose per cui posso capire che uno non riesce a sistemare un'abilità nel giro di qualche giorno nel giro di qualche settimana nel giro di qualche mese ma qui parliamo di dieci anni e tuttora le statistiche ci dicono che sono sempre le stesse cose l'altro aspetto di morale è che tendenzialmente il nostro magento a parte diciamo non computer può veramente diventare una bomba e quindi far male alla nostra famiglia e a tutte le cose che vogliamo bene con questo diciamo vi ringrazio per essere stati qui come conclusione se ci sono delle domande a disposizione grazie Simone ci sono domande? so che comunque Simone sei anche disponibile a limite anche in sala se qualcuno vuole fare domande ah ok sì solitamente tutta la parte di penetration test sui clienti si fa su clienti medio-grandi o ci sono dei budget che si possono usare anche per clienti medio-piccoli ok allora ci sono svariati modi di fare questo tipo di attività attività abbastanza brevi per cui diciamo anche adatte per PMI o comunque diciamo aziende sono quelli di dare un'occhiata e vedere come è la situazione cioè non si ha una copertura al 100% delle problematiche però si capisce come sta messa la situazione questo perché il penetration test è solitamente un'attività che viene fatta squisitamente a mano col supporto di strumenti automatici altrimenti si possono anche optare per soluzioni sempre poco costose che ti danno comunque un approccio automatico all'attività che però ovviamente ha risultati che possono essere più limitati cioè possono dare una maggiore copertura ma meno profondità di quello che può essere invece un lavoro manuale risposto? non so se abbiamo due minuti cioè solitamente quando mi mettono in panni di uno sviluppatore faccio un lavoro magari di sei mesi con il cliente finisco il lavoro lo consegno e a quel punto dovrei spiegare al cliente finale che deve fare anche tutta la parte di sicurezza cioè una cosa che va secondo te a carico dell'azienda diciamo che produce o va a carico del cliente allora per quello non c'è una risposta esatta diciamo direbbe qualcuno dipende per quello che ho visto di solito è un lavoro che fanno che fanno e che dovrebbero fare entrambi cioè da una parte curare l'aspetto di security e poi il cliente finale testa tramite una terza parte per essere sicura che il sistema è sicuro di contro è comunque un'attività che ovviamente se viene fatto un test su un'applicazione in cui mai è stata pensata la sicurezza è un massacro per cui è bene che anche diciamo il fornitore o comunque chi si occupa di implementare e sviluppare la soluzione ci pensi non necessariamente facendo un penetration test ma anche solamente spiegando ai propri sviluppatori che queste problematiche esistono e quindi pensarci da subito formazione o comunque anche revisione del codice anche magari man mano qualcuno lo fa facendo dei test automatici mentre diciamo lo sviluppo del codice a livello pratico delle statistiche dicono che noi possiamo spendere uno per trovare un problema di sicurezza durante lo sviluppo se ce ne accorgiamo dopo spendiamo fino a 60 per risolverlo quando siamo andati in produzione questo evidente l'approccio è pensarlo da subito pensando a dei requisiti di sicurezza facciamo conto ok usiamo HTTPS o no oppure sappiamo che la questione è critica per cui abbiamo dei requisiti particolari e da lì si parte con formare gli sviluppatori fare dei test nel frattempo e quindi anche poi magari fare un test finale che però diventa anche un'attività più leggera e quindi meno costosa e che semplicemente magari va a curare dei dettagli che sono sfuggiti non situazioni drammatiche dove ogni parametro che trovo ci sono le vulnerabilità che servono grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti